La capacità di anticipare i grandi cambiamenti portati dalle transizioni digitali e green è uno degli elementi su cui si giocherà la competitività delle imprese nei prossimi anni. È quanto emerge dal nuovo report di Look Forward, l'osservatorio permanente sulle competenze del futuro che Intesa San Paolo conduce in collaborazione con l'Università Luis Guido Carli e Lisa Zambito Marsala di Intesa San Paolo e Paolo Boccardelli autore dello studio. Fa bisogno di competenze, si vanno a raccordare su tre ambiti. Uno è quello delle nuove tecnologie dove il protagonista lo sta facendo l'artificial intelligence. Il secondo è quello della sostenibilità, quindi tutto il tema della green transition diventa impattante su tutte le industrie che operano sul territorio nazionale e poi abbiamo il grandissimo ambito che è rappresentato dalle soft skills, cioè la capacità di saper affrontare con adattabilità e flessibilità i cambiamenti che sono in rapida e costante evoluzione. è una fase di cambiamento complessa perché le aziende e i leader delle aziende si trovano al centro di tanti paradossi. Paradossi tra quello che sapevano già, che conoscevano i fattori grigi di successo e quelli che invece saranno i fattori di successo del futuro. Paradossi nella performance, quindi nella riduzione dei costi, l'efficienza, la performance finanziaria da un lato ma dall'altro la capacità di essere innovativi abbastanza. Durante la presentazione della ricerca si è discusso anche di intelligenza artificiale e degli impatti che avrà sul mondo del lavoro Vincenzo Esposito, amministratore delegato di Microsoft Italia. L'intelligenza artificiale è una grandissima opportunità che abbiamo davanti a noi, sta cambiando il modo in cui vediamo la conoscenza, è una grandissima opportunità davanti. Ovviamente non bisogna mai sottovalutare quelli che sono i rischi, bisogna avere un approccio responsabile. Quello che noi proponiamo come Microsoft è che l'intelligenza artificiale diventi un copilota, ovvero l'uomo resti al centro con la sua importanza e la sua capacità di discernere e l'intelligenza artificiale sia un superpotere, appunto un copilota che lo aiuti nella vita di tutti i giorni per essere più produttivo, più creativo e per liberare tutte le energie che oggi non sono pienamente libere.